Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, secondo le prime informazioni diffuse da Autovie Venete, in un incidente stradale accaduto in tarda mattinata sull'autostrada A4, poco dopo l'entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Un furgone e un'auto si sono scontrati e il furgone si è capovolto adagiandosi contro il guardrail. Le due vittime sono militari dell'esercito, così come uno dei feriti. Quest'ultimo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni vengono definite gravi. I militari viaggiavano su un'automobile di servizio, una Panda. L'autostrada, inizialmente chiusa nel tratto confreso tra Meolo Roncade e Sandonà di Piave, è stata riaperta. Il traffico scorre lentamente su una sola corsia e al casello sono ancora chiuse le entrate in direzione Trieste e l'immissione in A4 dalla A57.